ecco com'è stamane pulito al punto che per terra ci si potrebbe mangiare l'iperbole una stoccata chi incivile lo ha fatto davvero lasciando tutto lì l'incantevole passaggio ripulito così le acque cristalline del san bartolomeo che scorre tutto intorno e nello specchio d'acqua molte di meno le lattine sul fondale anche le oche sembrano apprezzare a pulire tutto i ragazzi del gruppo ultras venafro armati sì ma di ramazza guanti e tanta buona volontà ieri pomeriggio si sono dati da fare e come a vedere i risultati gli scatti ripresi su una pagina facebook dedicata alla città leggiamo il post fa riferimento anche alla nostra emittente questi ragazzi dopo il servizio di tv sulle condizioni pietose della zona lavatoio si sono organizzati e hanno ripulito la zona in maniera eccellente questo significa amore per la città un amore aggiungiamo corrisposto con discrezione i protagonisti dell'iniziativa non ci tengono a essere intervistati né a mettersi in posa davanti a una telecamera o ad altro obiettivo a proposito del messaggio invece destinatari gli incivili e i vandali che stando a quanto stiamo vedendo in questi giorni in città non mancano e poi ce n'è un altro mai giudicare in modo prevenuto situazioni o persone bensì guardare di volta in volta i fatti e sì perché la sorpresa è dietro l'angolo in questo caso dentro al lavatoio e quindi Grazie.